Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Clash Royale per andare a giocare una delle mie sfide preferite, ovvero la sfida strategica classica, il draft. Prima di iniziare però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato, nello shop Clash Royale, fondamentale per supportarmi. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, andiamo a unirci a questa fantastica sfida e vediamo un po' che cosa succede. Ai 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 ai, ok va bene, sgherri normali, qua direi di andare a prendere l'orda di scheletri invece, oh mio dio ragazzi, oh mio dio ho paura a lasciargli il cimitero, ho paura a lasciargli, regà solo perché ho paura del cimitero eh, non per altro, non per altro, solo perché ho paura del cimitero, non mi piacciono per niente le scelte che ho fatto ragazzi, non mi piacciono per niente, però ho paura di quel cimitero, vi devo dire la verità. Allora, sgherri da dietro, ah lui ha un bruttissimo gigante goblin, io vado subito così raga, io vado subito così, vado subito così ragazzi. Eh sì ragazzi, lui ha usato parecchio elisir per giocarmi il gigante. Ai 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 ai, ai ai ai, è successa la cosa peggiore che potesse succedere, la peggiore proprio ragazzi, immaginatevi la cosa peggiore che vi potesse succedere, che potesse succedere, è successo, ci ha fatto la torre, no 5 di vita, grossa fortuna per noi, grossa fortuna per noi, ah abbiamo un golem di elisir, questo è interessante. Il golem di elisir ragazzi può essere una cosa interessante, vediamo. Nulla è perduto, nulla è perduto, nulla è perduto, andiamo a togliere qua ragazzi che c'è roba sullo sfondo, vabbè. Nulla è perduto però potremmo essere messi male ragazzi, potremmo essere messi male, vi devo dire la verità. Eh, credo l'abbiate capito eh, credo l'abbiate un attimino intuito anche voi. No, 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 te prego, te prego, mico mio, perfetto, va benissimo, io ti lascio fare la torre, io ti lascio fare la torre e riparto di là col mio golem di elisir, ti lascio fare la torre. Certo non ho troppa roba da caricargli dietro al golem di elisir eh, mo che ce penso, mo che ce penso sì, è interessante il golem di elisir però che ci posso mai mettere, anche perché lui c'ha quello. Lui ragazzi c'ha quello, cioè lui con l'arciere magico mi countera praticamente tutto il deck, lui tutto il deck mi countera praticamente con solo l'arciere magico. Lui con solo l'arciere magico mi countera mezzo deck, no, oddio tutto il deck no ma quasi, e questa non è una cosa carina, questa ragazzi non è niente una cosa carina, cioè va detta molto chiaramente questa cosa. Sì, vabbè, cioè io c'ho soltanto il terremoto e questo c'ha una marea di roba da spammare, ho capito bene? Ok, a questo punto ragazzi non vado neanche più con... Con... Ah, ce l'avevo già l'arciere pirotecnico, vabbè, 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 gli stiamo a caricare cose, gli stiamo a caricare cose, difendiamone almeno uno di arciere pirotecnico, lorda, perfetto. Lui adesso starà giocando cose di là, quindi io provo, provo ragazzi, provo, ci provo, ci provo, ci provo, ci provo. Io ci provo anche col terremoto, non me ne frega niente, proviamo a fargli il più danno possibile. Guardate quell'arciere magico che non va giù, guardate quel maledettissimo arciere magico che non va giù con niente. Porca miseria ragazzi, quell'arciere magico che non va giù. Eh no, niente, ragazzi, è andata. Peccato, la prima è andata, ma lui prende con una carta, mi counterava tutto il deck, prende senza arciere magico, ragazzi, sta partita l'avevamo vinta. No, ma poi più che altro lui aveva un sacco di carte da spammare, ma io non avevo un incantesimo tipo scarica, frecce, firewall, sta roba qui. E quello è un problema. E allora, io qua ragazzi vado di gigante goblin per cercare di avere qualche truppo ad attacco. Barbari scelti, io gli sto dando una madre di roba per spammarmi. Tanta roba gli sto lasciando per spammarmi e mi prendo il domatore. Va bene. Detto questo ragazzi, allora, uh, abbiamo anche il golem di ghiaccio da poter mettere in combo. No, vabbè, dai, no, dai, un'altra volta no, per favore, per favore, un'altra volta no, por favore. Eh vabbè. No, va sulla princess. Eh vabbè, porca miseria ragazzi, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho appena sbagliato tutto, regà. Guardalo, poi rimane sempre, rimane sempre con poca vita. Rimane sempre con poca vita che mi devasta tutto. Oh, lui ha sbagliato la fireball però. Oh, meno, ah, sta fireball che ha sbagliato ragazzi ha riaperto completamente la partita. Se non avesse sbagliato quella fireball ragazzi, l'avamo già perso. Per il mio errore con la princess, eh. Quindi non potevo neanche lamentarmi. Neanche potevo lamentarmi ragazzi, pensate un po'. Neanche mi potevo lamentare. Ah, detto questo, io ti gioco un domatore dietro questa recluta che mi sembra abbastanza cattiva, eh. Tu che cosa giocherai? Ok, perfetto. Per un attimo ho sperato si fosse già arreso ma non è questo il giorno. Allora, mettiamo un bel golem di ghiaccio qui. Così che io possa fare una giocata di questo tipo. Quell'arciere magico va fatto fuori il prima possibile perché ragazzi sta diventando il mio incubo letteralmente. Letteralmente il mio incubo sta diventando, raga. Letteralmente il mio incubo. OMG. Ok, stavolta lo utilizzo il terremoto. Più che altro... Uh, va sotto torre! La recluta nostra ragazzi è andata sotto torre e ci ha permesso di fare la torre. Attenzione. Attenzione ragazzi miei. Lì giochiamo un golem di ghiaccio. Ci siamo presi un po' di danni, ragazzi. Più che altro a destra, raga. A destra non ce la stiamo passando bene. Dobbiamo ammetterlo. A destra non è che ce la stiamo passando molto bene, eh. Dobbiamo assolutamente ammetterlo. Quindi proviamo a mettere un gigante goblin da dietro. Poi che cosa giocherà? Addirittura... Eh, addirittura... Non ci credo, raga. Quella fuori legge si farà alla torre. No, non si farà alla torre, ma quasi. No, tutti e due, regali, volevo un po' splittare uno da una parte e uno dall'altra, però vabbè. Però va bene. No, 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 no. Eh, sì, è arrivata. Allora, mettiamo un po' di robetta qui. Fireball che non ci spaventa più di tanto. Dai che questa seconda partita è andata. Con un po' di sofferenza, ma la seconda partita ce la portiamo a casa. Quindi una vittoria, una sconfitta. Qui ci andiamo a prendere la chiave, ma ce ne abbiamo già abbastanza. Quindi chi se ne frega, andiamo a mano. Uh, gigante elettrico, scelta, eh. Quella è una scelta abbastanza ardua. Scelta abbastanza ardua. Io qua vado di veleno. Qua vado di veleno e qua vado di drago infernale. Anche se pure gli scaricuccioli potevano tornarmi utili contro il mastino, eh. Però vabbè, vediamo. Che altro non mi andava tanto a genio di lasciare il drago infernale a lui con io che avevo il gigante elettrico. Allora, qui vediamo se riusciamo subito a fargli un po' di danni. Fra, fra. Che è sta cosa? Oh mio Dio, fra. Ma? Ma è legale quello che stiamo vedendo? No, regale, l'ho pure portata più verso la torre. Bonito, un attimo. No, non faccio in tempo. Eh niente, la bomba ce la siamo presa tutta. Uh, principe contro principe. Però il nostro sarà aiutato dal drago infernale. Eh, fratellino mio, mi dispiace. Let's go. Let's go. Let's go. Allora, lui ha mongolfiere e mastino, eh. Non è una cosa be... Eh, vabbè. C'ha l'orda. Peccato. 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 Brutta notizia per noi. Brutta notizia per noi. Mastino. Io ti gioco il gigante elettrico lì. Voglio vedere che cosa mi combini adesso contro quel gigante elettrico. Aia. Non sono belle quelle. Contro il gigante elettrico quelle non sono una bella cosa, ragazzi. Non posso neanche supportarlo con... Guarda, 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 guarda che gli fanno. Guarda che gli fanno. OMG, regà. Ma siamo impazziti? Oh mio Dio, regà. No, no, no. Continuate a farmi fuori la mongolfiera. Meno male, ci siamo difesi pure noi. Regà, ma gli scaricuccioli da soli si difendono il gigante elettrico? Gli scaricuccioli da soli? Beh, buono a sapersi. Buono a sapersi, ma non è una cosa buona per noi in questo momento. Il nostro principe purtroppo non fa in tempo a fare la sua carica. Però sapete che c'è? Io lo so che tanto la giochi. Lo sapevo che tanto la giocavi. Lo sapevo. E adesso l'hai usato qui. Questi scaricuccioli fantastici. D'ora in poi li prenderò sempre, gli scaricuccioli. D'ora in poi li prenderò sempre, gli scaricuccioli. Oh, peccato. Speravo partissi subito con il mastì. Ah, cioè tu hai visto che ho giocato il gigante elettrico lì? Interessante l'approccio di questo ragazzo alle partite. Molto interessante. Eh, il principe regalo dove ho giocato dall'altra parte. Fireball che ci può stare, solo che l'ha giocata un po' male. Quindi purtroppo per lui non è andata proprio come sperava, più che altro. Noi abbiamo un ottimo push perché adesso chiaramente c'ho il principe lì. E lui regà con quella fireball si è un po' condannato. Ma diciamo che si è condannato quando ha giocato quel mastino dopo che aveva visto il mio gigante elettrico. Cioè lui si è un po' condannato lì. Non doveva giocare il mastino. Anche se gli avevo tolto gli scaricuccioli doveva provare a difendersi. Va bene, va bene, va bene. Terza partita che ci portiamo... Cioè, oddio no. È la terza partita ma la seconda che ci portiamo a casa. Vabbè, questi jolly comuni ci torneranno molto utili. Su questo non c'è dubbio. Allora, uh, regà l'hanno potenziata. Sono curioso di usare la riete. Sono curioso di utilizzare la riete da battaglia. Quindi la voglio provare. Regà, scelte un po' esotiche ho fatto, eh. Ho scelto tutte carte... Cioè, in realtà, tranne il tronco, ho scelto le carte opposte a quelle che so utilizzare meglio. Non mi chiedete perché, ma la volevo perdere sta partita. Uh, a noi ci ha dato quasi tutte le carte potenziate. Anche i mascalzoni, se non sbaglio. No, non è che se non sbaglio. Sono sicuro, l'hanno potenziati. Interessante. Molto interessante. Allora, io la consegnerò gliela e gliela utilizzo lì per andargli a bloccare quel cucciolo di drago. Se non ti dispiace. E questa riete da battaglia. Te lo piazzo qui. Con co... Uh. Molto male per noi. Molto male per noi. No, però di là la riete hitta. Di là la riete hitta. Mica tanto male per noi. Mica tanto male per noi. Va benissimo. Va benissimo. Siamo in vantaggio di hit. E abbiamo anche un buon push rispetto a lui. Che comunque il suo io lo posso fermare così. Eccole lì le bandite che hittano. Eccole lì le bandite che hittano. Per carità, su una torre che non era a nostro interesse hittare più di tanto. Però sono sempre delle hit. Ok. No, ci ha messo troppo. Ci ha messo troppo. La recluta. Mannaggia la misera, ragazzi. Sti danni non li dovevamo pigliare. Ok, lui ovviamente può pushare anche con il minatore. Attenzione, lui lì è costretto ad utilizzare la palla di neve. Vediamo, vediamo, vediamo quello che succede di qua. Guardie. Eh, che in realtà non fanno arrivare... Giusto, 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 giusto. Va bene, qui andiamo di un tronchettino per cercare anche di far danno. Metto da dietro un golem di ghiaccio. Abbiamo un deck che cicla abbastanza rapidamente. Quindi potrebbe non essere così stupido pensare di ciclare adesso la riete e pusharla. Anche perché lui non sta ciclando il mazzo. Ha giocato adesso una strega da dietro. Quindi ti gioco dei goblin. E vado molto aggressivo. Tanto di là abbiamo i mascalzoni. Quindi qualcos'altro oltre la strega la deve giocare. È costretto. È costretto, ragazzi. È costretto. La scarica non ci voleva. Con lo stregone ha bloccato tutto. Con lo stregone ha bloccato praticamente tutto. Con lo stregone ha bloccato praticamente tutto. Sì, perfetto per noi. Perfetto per noi questo gigante royale. In realtà per lui è stato un errore. In realtà per lui è stato un errore questo gigante royale. Perché col cacciatore, ragazzi, ho fatto il devasto. Vado anche di un... No! Ah, vabbè. Ha ittato. Poteva ittare un po' di più, ma vabbè. Mamma mia, anche di là il danno. Eh, lui, ragazzi, ha fatto l'errore madornale di giocarmi il gigante royale sul cacciatore. Cioè, ragazzi, il cacciatore fa troppo danno. Qui ha sbagliato anche il minatore, per esempio. Io adesso carico anche una riete da battaglia. E qui noi, ragazzi, pushiamo come se non ci fossero domani. Noi qui, ragazzi... Eh, lo stregone pure li ho spostato, ragazzi. Non era neanche voluto. Non era neanche voluto. Perfetto! Perfetto, ragazzi. E ci andiamo a portare a casa la terza vittoria. Che ci consente di guadagnare 5.000 monete. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ah, vabbè, qua vado di Valkyrie, ragazzi. Qui vado di Barile Goblin, anche se ho molta paura del cimitero. Uh... Eh, vabbè, ragazzi, vado di Regina. E attenzione, attenzione, perché qui vado di Golem di Ghiaccio. Attenzione, eh. Attenzione, perché io a lui ho dato Re degli Scheletri e Cimitero. Io ho la Valkyria, ma ho counter uno o counter l'altro. Sarà molto esotica questa partita, diciamo così. Ok, Goblin Lanceri da dietro per lui. Spiritello del Ghiaccio. Io gioco anche i miei di Goblin da dietro. Stregone per lui. Vabbè, io gioco la strega di là. Gioco la strega, ma di là. Vediamo un po' quello che succede. Dai, pescatore, facci sognare. Dai, pescatore, facci sognare. Mica tanto, eh. Va detto. Va detto. È una hit da parte del coso. Ce lo siamo anche preso. Lo stregone. Qui difendiamo così. Ah, ma lui lì! Ma scusate, ma non si sta difendendo a sinistra. Cioè... Cioè, letteralmente non si è difeso a... A sinistra. Allora, facciamo così. Dai che sopravvivi, Regina. Termina, perfetto. E si riparte. Perfetto. Mi pareva strano, regà. Per un attimo lui stava giocando tutto sulla destra. Mi sembrava un po' strano che effettivamente riuscisse a spammarmi tutta quella roba. Molto strano, ragazzi, mi sembrava. C'era qualcosa che non quadrava, insomma. Allora, dopo questi push che ci siamo fatti a vicenda, posso aver capito un po' il suo deck che ho paura di quando ci sarà l'Elysir per 2. Eh, ragazzi, l'Elysir per 2 potrebbe essere una brutta bestia per noi, eh. Ok, lui decide di giocarli così. Ma perché c'ha la gelo, c'ha qualcosa? Oppure semplicemente perché l'ha giocato e basta? Ha giocato e basta. Cosa che ovviamente per noi è molto meglio. Lui ha le frecce. La strega va di nuovo sotto torre e per noi ovviamente può andar bene così. Mettiamo il pescatore. Mettiamo questo signorotto qui. Scarica, ragazzi, perché se no... Oh mio Dio, non ho lisciato uno. Eh, qua purtroppo sti danni era meglio se non li prendavamo. Era meglio se non li prendavamo, ragazzi. No, ho giocato male il barile. Ho giocato molto male il barile. Vabbè, tanto luce ha le frecce, quindi è indifferente. È stato indifferente. Golem di ghiaccio da dietro. Lui lì dalla regina si dovrà difendere in qualche modo. Io sto per andare ad utilizzare il potere. La strega la gioco di qua. Aia, la strega lì prenderà brutte pizze. La valchiria la devo giocare qui. Altro golem di ghiaccio, ragazzi. Lì ci arriveranno delle pizze incredibili. No, ci prende la torre. Il re degli scheletri. Ragazzi, sapete che è un bel problema per noi? Perché lui ha capito come venirci a pushare. Lui ha capito come ciclare il deck per romperci le scatole. Sì, lui l'ha abbastanza capito, ragazzi. Devo fare una cosa, devo giocare... Uh, no, l'ha giocata lì le frecce! Potevo giocare il barile goblin normalmente. Vabbè, qua credo gli arriveranno... Vabbè, penso ci siamo fatti la torre. Meno male, regà. Meno male, meno male, meno male. Se no, avevo completamente sprecato la giocata. Ce la potevamo fare in maniera molto più semplice. Vabbè, jolly leggendario, ragazzi. Purtroppo non ci facciamo nulla. Però, attenzione, perché ci danno 20.000 di oro. Dato che, ovviamente, il jolly si trasforma in una carta. Prende le leggendari. Ci abbiamo tutto che possiamo maxare. Raga, qua... Allora, lo so. Lo so. Prima avevo detto, datemi l'arciere magico. Però, ragazzi, il bocciatore ci sta. Il bocciatore ci sta. Il problema è che abbiamo tutte carte pesanti adesso. Certo, però pure a lui abbiamo dato carte pesanti, eh. Anche a lui abbiamo dato carte pesanti. Quindi, può essere comunque buono per noi. Allora. Eh, ragazzi. Io ripartirei da dietro col bocciatore. Uh, arciere pirotecnico. E che fai? Non te la fai attivare la torre dall'arciere pirotecnico? Non te la fai attivare la torre dall'arciere pirotecnico? Ma sì che te la fai attivare la torre dall'arciere pirotecnico. Te la fai attivare come la torre principale dall'arciere pirotecnico. Certo, però, ma quell'arciere pirotecnico... Sta un po' a rompere le scatole, eh. Pensavo che almeno lo riuscissimo ad uccidere. Oh, niente. La gang, ragazzi, ce l'abbiamo sempre contro. Ok, almeno lì fermiamo un pochino tutto. Ci abbiamo ancora la regina in vita. Vado ad utilizzare la sua abilità. Let's go. Ci andiamo a fare un po' di danni? Ci andiamo a fare un po' di danni. Molto interessante. Abbiamo anche l'elisir per giocare un barile d'ossa. E lo andiamo a giocare. Vediamo un attimino come decide di difendersi lui. C'ha solo Fireball. Cioè, scusate. C'ha solo Velen e Razzo come incantesimi. Quindi è costretto a giocare qualche carta. Per noi è molto buono il fatto che lui abbia i due incantesimi che gli abbiamo dato noi, eh. Qui nelle scelte siamo stati un po' avvantaggiati noi. Però attenzione perché non possiamo comunque cantare vittoria. Perché comunque tocca giocarla. Tocca giocarla. E l'errore, lo sapete, per me è dietro l'angolo. Attenzione perché un Drago d'ossa va sotto torre. Per noi è stato molto, 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 molto buono. Il bocciatore di poco non arriva sulla torre, ragazzi. Sarebbe stato un sogno. Raga, io quando posso glielo spammo il barile d'ossa perché lui fa molta fatica contro il barile. Certo, se mi gioca l'arcere magico... Oh no, l'ho lisciato. No, meno male è andato lui addosso. Quella torre ce la siamo quasi fatta. Molto bene, molto bene, molto bene. Ah, io in realtà le hit da lui le prendo. Le hit dall'arcere pirotecnico le prendo. Gioco da dietro il Golem di Elisir. Gioco da dietro il Bocciatore. Non giocherò da dietro la regina degli arcieri, ragazzi. Perché lui c'ha razzo, ricordiamocelo. Ricordiamocelo che lui c'ha razzo. Attenzione. Tronchettino a ripulire qui. Lui purtroppo ci hitterà probabilmente per colpa della domatrice d'Arieti. Qua la Fireball quasi a ripulire completamente la sua torre. Di là si riparte con un Barile d'ossa. Quella torre è andata. E let's go. E let's go, ragazzi. Non c'è nient'altro da dire. Abilità della regina. Bocciatore di qua. Che tanto di là pure l'abbiamo già giocato. Io ti riparto da quest'altro lato, amico mio. Nel senso... Qui vado di un tronchettino molto banale. Va benissimo. Perfetto, regà, perfetto. Perfetto, perfetto. Questa l'abbiamo tenuta molto sotto controllo. Questa è stata, penso, una delle partite che abbiamo tenuto più sotto controllo di oggi. Ci andiamo a beccare l'oro. Che l'oro ovviamente è sempre ben accetto. E let's go. Eh, vabbè. Dai, andiamoci a prendere il gigante elettrico, ragazzi. Ora dobbiamo prendere tutte le carte più... Che costano meno. Eh, vabbè. Sì, sì. Ci andiamo a prendere la consegna, ragazzi. Ci andiamo a prendere la consegna. Allora, in realtà lo sapete che non lo so qui. Forse prenderei il boscaiolo. Allora, la strega madre, ragazzi, parliamoci chiaro. Anche se l'hanno depotenziata, rimane un'ottima carta. Però volevo avere almeno una carta con tanto danno. E quindi mi serviva il boscaiolo. Ok, lui gioca i mascalzoni lì. Io vado di spiritello elettrico. Lui li danni se li lascia prendere. Qui vado a giocare la consegna royale. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Il domatore che si è preso comunque il danno. Almeno... No, niente. È riuscito a tirare comunque un sacco di hit. È riuscito comunque a tirarmi un sacco di hit. Ma guardate l'arciere magico, regà. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Lui si deve difendere, sennò prende una marea di hit. Quindi va benissimo così. Va benissimo così. Questo cucciolo di drago, raga, mi permetterà adesso di poter ripartire da dietro col gigante elettrico. E vedere un attimino lui come si difende. Ok, perché lui c'ha il domatore, regà. Noi lo soffriremo un botto, il domatore. Ok. Lui addirittura fa una cosa del genere. Che per carità ci può stare, eh. Per carità ci può stare, ma è molto coraggioso. Ha anche sbagliato la fireball. Probabilmente la torre è praticamente quasi andata. Eh, ma ho paura di questa mossa che ha fatto. Perché io ho paura che lui pensa di potersi difendere molto facilmente dal nostro gigante elettrico. Cosa che comunque potrebbe essere vera. In realtà no. Ah, che errore. È vero. Riuscire alla strega. Gliel'ho data io. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene comunque. Eh, eccolo qua. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a non perdere. No, no, no. La perdiamo. Quella torre la perdiamo. Quella torre la perdiamo. No. Oddio, lo sapete che in realtà è buono che comunque è rimasta con almeno 80? E io infatti adesso la vado anche a difendere. Gliela faccio sudare sta torre, eh. Gliela faccio anche sudare la torre. No, 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 no. No, ce l'ha fatta. E allora ho sprecato 3 di elisir. Questa prova di riuscire a mantenere la cosa mi costerà caro. Il fatto di aver provato a tenere la torre intatta mi costerà caro. Cioè intatta, vabbè. Provare a tenere la torre in vita. Allora, vediamo. Regà, qua devo provare ad attaccare un attino tutto quello che ho perché lui probabilmente poi col prossimo attacco ci farà molto male. Quindi devo provare a farmi la torre qui, ragazzi. Guardate di quanto non me la son fatta, però. Non ci credo. Non ci posso credere, raga. Eh. Eh. Ai, ai, ai. Qua ci arriveranno bei danni. No, il cucciolo di drago. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci posso credere. Potevamo vincerla questa, eh. Potevamo vincerla. Non ci credo, ma ha fatto sia una torre che l'altra il cucciolo di drago. Incredibile. Incredibile. Va bene, va bene, va bene. Peccato. Perché mi fate fare queste scelte? Eh, qua me ne pentirò, eh. Oh mio Dio, ma che è? Ma perché? Vabbè, prendiamoci le due più leggere. Giochiamo sulla leggerezza del deck. No, regà, ma che scelte sono? Ma che scelte sono? Ma che deck pretendono che vengano fuori così? Ti prego, dimmi che mi ha dato una struttura. Anche se io fino adesso non ho visto manco mezza struttura. Mamma mia le pizze che prenderemo. Dovevo prendere il gigante elettrico. Dovevo prendere il gigante elettrico, raga. Abbastanza a mani basse. Uh, però c'è il drago infernale. Attenzione, eh. Drago infernale sarà molto interessante. Ok, l'automatrice è arrivata a torre. Ok, qui ci siamo fatti un pochettino tutti gli scheletrini. Quasi, più o meno. Va bene, va bene, va bene. L'inizio, ragazzi, non è negativo. L'inizio almeno è negativo. Il problema è che non ho strutture. E ora mi dovete dire voi come faccio a difendermi sia dal gigante royal che dal gigante elettrico. Così, per forza. Pushare dall'altra... Eh, no, vabbè. Più c'è il cacciatore, raga. Guarda, guarda, guarda il cacciatore quanto danno gli ha fatto al principe nero. No, raga, dovevano continuare ad andare sul... Sul principe... Doveva continuare ad andare sul golem di Elisir. Ah, lì fortemente ci prenderemo la torre. E va bene. Qui non abbiamo preso neanche troppo danno e quindi posso permettermi di fare una cosa del genere. Però ricordiamoci che lui attualmente ha quei quattro di Elisir in più del... Del coso, eh. Del... Del golem di Elisir. Però, raga, sembra quasi che non sia riuscito a sfruttarlo il più quattro del golem di Elisir. Io qui devo avere tanta paura del Elisir per due. Quando arriverà l'Elisir per due, ragazzi, sarà abbastanza tosta. E soprattutto se io dovessi perdere anche una sola torre è finita. Se io dovessi perdere anche una sola torre è praticamente finita. E' praticamente finita, ragazzi, se io dovessi perdere anche una sola torre. Ok. Facciamo una cosa del genere. Doppio principe nero, raga. Dai, 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 dai. Fate il vostro dovere. Sì, let's go, ragazzi. Che attacco prepotente. Che attacco prepotente qui, ragazzi. Io qui gioco l'automatrice d'Arieti. Gioco tutto. Tanto lui mi deve far fuori anche l'altra torre. No, adesso si sposta il gigante elettrico e prende anche il drago infernale. Ok, no, 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 ce l'abbiamo fatta. Usciamo, regagli, rimetto tutto quello che ho. Che partita. Che partita, signori. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Dai. Avremo fatto le tre, ma ci accontentiamo della vittoria. Ok, ragazzi. Ok, ok. Siamo tornati alla vittoria. Ci andiamo a prendere i jolly rari che ci torneranno sicuramente molto utili. E via. Uh, stessa scelta di prima. Allora, regina. Qui vandrei di veleno. Qui di valchiria, avendo visto il suo re degli scheletri. E qui golem del ghiaccio. Il problema è che non ho nessuna truppa per attaccare. Potevo prendere il golem di elisir, effettivamente. Però, ragazzi, la valchiria contro il re degli scheletri mi serve troppo. Ok, ci ha messo un po' lui a scegliere, ma finalmente ha scelto. Ok, dai, abbiamo un minatore. Certo, certo. Non il massimo. Spero di avere qualche altra truppa per attaccare. Certo, ma che scelta è il golem di elisir o valchiria, ragazzi? Cioè, che scelta è? Draghidossa. Raga, la vedo molto male sta partita. Cioè, lui ha sia il gigante che il golem di elisir. E io c'ho l'estrattore. E mo' mi dovete spiegare. Io con l'estrattore che ci devo fare? Che ci devo fare io con l'estrattore? No, vabbè. Lui c'ha tutte truppe d'attacco, praticamente. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Scusate un attimo. Ma scusate, scusate. No, no, ragazzi. Per favore. Cioè, l'unica cosa buona per noi è che le sue truppe sono tutte pesanti. Ma comunque. No, no. Eh, no, niente, riesce. Ragazzi, oh, che vedo di? Andiamo, proviamo. Però ragazzi, boh, cioè, ma che deck è uscito fuori? Ma che deck è uscito fuori? Vabbè, la nostra strategia sarà minatore e veleno. Evidentemente. Vediamo, lui, io mi ricordo prima cosa si è difeso. Ah, è vero, c'ha il razzo, regà. Che scemo che sono. Che scemo. Non ci ho pensato. Non ci ho pensato, ragazzi. Gliel'ho dato io, tra l'altro. Vabbè, non gioca nulla. Non gioca nulla. Sì? Amico mio. Ma? Ah, io non mi fido, quindi comunque ci vado piano. Oh, eh, ok. Vabbè, ce l'ha lasciata, ragazzi, evidentemente. No, ok, adesso sta giocando. Niente, io ho giocato pure la Valkyria, maledetto. Vabbè che voglio di... Vabbè, avevo giocato la Valkyria, ma voglio di, ribadisco, non è che fosse un grosso problema. Però, insomma. Insomma. Allora, i drag... Aia. Aia. Il boia. Adesso... Eh, vabbè. Ma che cos'è? Che è tutta sta roba, oh? Che è tutta sta roba, amici miei? Ok. Va bene. In realtà, con il razzo ha fatto una bellissima giocata. Però, qua, ragazzi, l'abbiamo messo parecchio sotto pressione. Raga, io uso l'estrattore così. Lo uso come difesa, ragazzi. Lo uso come difesa. Va bene. È andata. Ok, ragazzi. Ci portiamo a casa 5.000 di oro. Let's go. Ah, vabbè. Qua vado di mini pecca. Fornace, anche se me ne pentirò quel mortaio, sarà la causa della mia morte. E così. Vabbè, stanno uscendo delle carte esotiche questa volta, eh. Stanno uscendo delle carte esotiche contro Mariana. Vediamo un pochettino che cosa deve succedere. Non succede niente. Vabbè, ci vado a piazzare. Eh, calla. Lo sapevo. Ma lo sapevo, eh. Lo sapevo. Io lo sapevo. No! Ma non è andato sul mini pecca? Si è ravvicinato già troppo il mini pecca? Oh, mio Dio, regà. Già ho iniziato con una cavolata incredibile. Già ho iniziato con una doppia hit da parte del mortaio, regà. Ai, 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 ai. Qua ci arriverà pure una hit da parte di uno degli arcieri. Anzi, un po' tutti e due. Aia! Non mi aspettavo quel mortaio lì e sinceramente speravo di riuscire a spostarlo con il mini pecca. No! Ho mischiccato la fornace. L'avolo gioca a destra. Ma io c'ho solo gli sgherri per il suo... C'ho solo gli sgherri, mi sa. Ah, bene. E' proprio così tutto quanto ci gioca. Tutto quanto lui ci gioca. Molto male. Mortaio che deve andare giù, per favore. Ok, va bene. Vabbè, tanto con sta scusa gli abbiamo fatto un bel po' di danno di qua a destra, dai. Con la scusa. Che gli devo dire? No, eh, un po' la fornace me l'hanno indebolita, eh. Un po' la fornace me l'hanno indebolita. Ma a proposito, come ti difendi... Ah, no, 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 non ci provo per adesso. Volevo vedere come si difendeva dal... Dal... Dallo scoco, dal coso, dal varile goblin. Ok, perfetto. Neutralizzati completamente gli spaccamuro, ma l'ha un po' giocati male lui. Lì arriveranno delle hit se lui non si difende. Ok. Lorda. Quelli arriveranno, questi scheletrini, non penso. Lui c'ha la scarica. Oddio, no, una hit la prendiamo. Una hit l'abbiamo presa, non ci credo. Eh, va bene, va bene. Lui c'ha la scarica, per noi in realtà è meglio. Che non abbia frecce o tronco, ovviamente, o varile barbarico, insomma, sta roba qua. Mastino. Mortaio. Ok. No, regà, ho rigiocato male i mascalzoni. Però va bene. No, sono andati a far fuori quei due, che erano gli unici che stavano andando addosso a quel mortaio. Maledizione. Va bene. Sgherri. Arciere pirotecnico. Aia. No, no. Eh, c'è, entra. Quello entra. Quello entra. Quello entra. Quello entra. Quello entra. Quello purtroppo entra. Quello purtroppo entra, ragazzi. Eh, qua la fornace la dobbiamo giocare di qua. Mannaggia, regà. Che partita. Che partita, amici miei. Eh, buona sta gang. Andiamo a fornace della gioco di qua, amico mio. Beccato. Ah, una hit è arrivata, regà. Però non ho incantesimi. Mamma mia, regà. Scusate, sto in silenzio, ma sto tryhardando come non ho mai fatto prima d'ora. Sto cercando di tryhardare come non l'ho mai fatto prima d'ora, perché non è facile. No, il mortali fa sulla torre. Sì, let's go. Qui Goblin che avevo giocato prima. Mamma mia, regà. Che tosta. Che tosta. Ok, allora, a quanto arriviamo? 8 vittorie. Vabbè, questi epici non ci servono. Quindi ci andiamo a prendere l'oro. 10.000 di oro e il jolly leggendario. Poi ce lo andiamo a prendere. Speriamo di arrivarci. Allora, arciere pirotecnico. Qui mi andrei a prendere il boscaiolo. Qui mi andrei a prendere... Proviamo. 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 E le guardie. Proviamo, regà. La trivella è un botto che non la utilizzo. La trivella è veramente tanto che non la utilizzo. Ma veramente tanto, eh. Quindi potrebbe essere stata la scelta sbagliata. Però... Però ci voglio provare. Allora, vediamo come ti comporti contro dei goblin così. Spiritello. Che ci sta? E contro una trivella piazzata subito così te l'aspetti? Vediamo. Mastino. Madonna, regà. Tutti i mastini. Tutti, 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 tutti i mastini. Però qui per lui sono arrivati danni importanti, eh. Io non lo vorrei dire, ma... Qui per lui sono arrivati danni molto importanti. Eh... Ok. No. 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 Ragazzi, è che io non ho... Ora, a parte l'arciere pirotecnico, qualcosa... Mamma mia quel boscaiolo! Ma lui mi ha lasciato proprio così. Ma in effetti, regà, lui stava attaccando in maniera un pochino troppo aggressiva. No, che fortuna, ragazzi. Un solo spiritello gli ha fatto fuori tutta la nostra trivella goblin che era appena esplosa. A noi dobbiamo ancora giocare il nostro asso nella manica che si chiama Golem di Elisir. Non so se giocarlo ora. Vediamo un attimino lui se gioca qualcosa. Io vado di nuovo di goblin qui perché prima ho visto che gli dava fastidio. Ok, ho fatto bene anche un po' per ciclare il mazzo e proprio perché probabilmente me li lascerà hittare. Esatto. Io vado di Golem di Elisir. Vediamo. Vediamo un attimino lui come si comporterà. Va bene. Lui va a piazzare il suo... Ahia. Ok. Questo non l'avevo mezzo che è considerato il fantasma, però l'abbiamo fatto fuori. Il fantasma l'abbiamo fatto fuori ed è quello che ci interessava. Qui andiamo di trivella, ragazzi, per cercare di fare il più danno possibile. Tutti quegli cucciolotti escono fuori mezzi che morti e qui ci difendiamo con i goblin. Perfetto, direi, ragazzi. Direi perfetto. No! La principessa l'ha fatta fuori Arciere Pirotecnico. Non l'avevo visto. Oh mio Dio, regà. Lì come gli siamo andati i cattivi. E che dite? Lui ci proverà ancora? No, mi sa che ha quittato, ragazzi. Potevo tranquillamente pushare. Vabbè, io nel dubbio parto da dietro. Vabbè, gli ho giocato tutto alla fine. Gli ho giocato un po' tutto, tanto si si era arreso. E let's go. Let's go. La trivella goblin alla fine è stata una scelta abbastanza interessante. E andiamo con l'ultimo. O la va la spacca. O vinciamo o perdiamo. Vabbè, speriamo bene. Ah! Ah! Vabbè, prima non l'abbiamo scelto. Abbiamo vinto, quindi prendo il coso. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Vai, 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 vai. Va bene. Guarda, voglio farmi del male. Voglio farmi del male. Voglio farmi del male, ragazzi. Voglio farmi del male. No, regà, gli ho lasciato il gigante royal perché abbiamo il cacciatore e col cacciatore ci possiamo difendere bene al gigante royal. Vabbè, abbiamo noi anche il gigante normale, quindi oltre gli spaccamuro abbiamo qualcosa per pushare. Let's go. Ecco. Questa non ci vuoleva in realtà perché lui ci sta pushando col gigante royal ma io non ho in mano il cacciatore. Però vedete, appena ho il cacciatore, tac, lui ci ha fatto più danno, però noi adesso abbiamo una bella ripartenza che lui si difende con... Ma sapete che in realtà ci stava? Ci sta, ci sta, ci sta. Vabbè, il cacciatore adesso però si fa un po' di danni, eh. Lui forse il cannone l'ha anche un po' sprecato. E ovviamente va bene così. Allora, detto ciò, se mi riempio di elisir, se l'ho giocato per il cannone lì, in realtà non dovrebbe avere troppo elisir. O meglio, non dovrebbe avere abbastanza elisir per giocare sul ponte qualche truppa bella pesante. Quindi io riparto dietro col gigante. Abbiamo un qui barbari per difenderci dal gigante royal, quindi in realtà abbiamo fatto bene secondo me a prendere gli spaccamuro. In realtà secondo me abbiamo... Guarda, sembra una combo tipo del tutorial. Mettere dietro... Mettere dietro il gigante e gli arcieri, ragazzi. Ridicolo, ridicolo. Veramente, veramente. Però vabbè. Che ci dobbiamo fare? Che ci dobbiamo fare? Intanto di là gli sono arrivate delle belle hit. Di qua stanno arrivando delle belle hit. A me va benissimo così. Ok. Certo. Certo. Più che legittimo. Fatemi fuori l'arciere magico il prima possibile. Io intanto di qua ti gioco altri spaccamuro perché nel dubbio ti continuo a fare un po' di danno anche di qua. No! Spaccamuro! Ma stava lontanissimo il cannone! No! Ragazzi! Gli avremmo fatto una marea di danno! E quel cannone l'aveva completamente sprecato! Vabbè. 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 Facciamo finta che va bene. Perché, raga, comunque così la partita è ancora aperta, eh. La stiamo giocando meglio noi, ma la partita è completamente aperta ancora, ragazzi, eh. Mastino? Ragazzi, io ma quante volte me lo devo beccare contro il mastino? Ma scusate. Di là? Cosa si... Cosa si sta preparando a fare? Cosa si sta preparando a fare, esattamente? No! No, regà, ho sbagliato. No, regà, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho giocato le guardie. No, regà, ho sbagliato. Oddio, le guardie sono arrivate a torre, tra l'altro. E stanno a fare pure una marea di danno. Non ci credo. Ho sbagliato, però. Gli ho sbagliato. Ok, una è entrata. Allora, io glielo gioco lì il... Il gigante. Va benissimo il cannone, ovvio. Le guardie, ragazzi. Le guardie ancora di là. Dio, il gigante mi sa che arriva a torre. Dai, dai, un cazzottone. Sì. Let's go. Let's go. Ma lui aveva un brutto deck da gestire, va detto. Lui aveva un bruttissimo deck da gestire, ma se riusciva a ripartire con tutta la roba che aveva, mi devastava. Detto questo, regà, ce l'abbiamo fatta senza ricominciarla, eh. Ce l'abbiamo fatta senza ricominciarla, certo. Due sconfitte le abbiamo fatte, ma ce l'abbiamo fatta senza ricominciarla. Detto questo, ragazzuoli, top. Qui abbiamo da ritirare un po' di premiucci. E ritiriamoli, ragazzi. Li ritiriamo insieme. Tanto sto video già è abbastanza corto, quindi perché no? Allora, jolly comuni. Cassettina. Va bene, niente di che. Oh, jolly rari, che questi ci servono parecchio. La chiave che andrà sprecata, ma va bene così. Va bene. Altri jolly, altre carte interessanti. Questa che si trasformerà in oro. Più punti stella. E let's go, ragazzi. Uh, abbiamo trovato tante carte di cui che dobbiamo ancora ammazzare, eh. Meno male. Meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Detto questo, regà, mi raccomando, io vi ricordo. Il codice creatore, GGYT, tutto attaccato. Nello shop di Clash Royale, fondamentale per supportarmi. Lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non questo è fatto. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!